Ciao, vediamo un workout di dimagrimento e tono muscolare, lo dedichiamo in particolare alla nostra amica Diana che ci ha chiesto come fare a rimettersi in forma dimagrendo e insomma allenandosi con noi. Questo workout è costituito da una parte di riscaldamento che non vedremo in questo video ma che sicuramente si potrà vedere in altri video e che è formato da tre blocchi di esercizi, ogni blocco è costituito da tre esercizi, uno per le gambe glutei, uno per gli addominali e uno per la parte alta e ogni esercizio verrà eseguito per un minuto circa. Negli intervalli tra un blocco di esercizi e l'altro, anche quello di circa un minuto o un minuto e mezzo al massimo, faremo una parte un pochino più di interesse cardiovascolare, quindi una corsetta sul posto in questo caso e una parte invece di mobilità articolare utilizzando un bastone. In particolare potete usare se siete a casa anche il bastone di una scopa banalmente. Che cosa ci serve per questo workout? Oltre al mio bellissimo foglietto degli appunti perché ho paura di non ricordarmi tutto, ci servono dei pesetti, io in questo caso sto usando due manubri da un chilo ciascuno, a casa potete usare anche delle bottigliette di acqua da mezzo litro, ci servirà una salvietta, quindi un asciugamano e il bastone appunto come vi dicevo. Ok? Andiamo all'esecuzione e buon allenamento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!